Bentornati a una nuova puntata di facciamo finta che insieme oggi presentiamo un sacco di novità una molto 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 importante che vi di cui parliamo fra pochissimo ma prima di tutto diamo il benvenuto alla chat ai veterani agli abbonati un abbraccio grandissimo per essere sempre presenti insieme a noi e un graditissimo ritorno a Davide come stai? Cioè in realtà io non so come stai. Allora ho poca voce quindi cercherò di essere eloquente e conciso la metropolitana di Milano deve aver scelto evidentemente la pace al posto del condizionatore e insomma il mio ufficio invece ha scelto il condizionatore e quindi è così bravo così facciamo sfogare subito le zetta in onora al tuo ufficio subito un po' di zetta in chat pronti arrivati però intanto ti ringrazio perché sei qui nonostante la voce cercheremo di non fartela sprecare quindi cercheremo di entrare subito nel vivo di questa storia di cui parliamo da tanti mesi e che adesso vedrà la luce anche con questa puntata. Bye! Allora no sulla mia salute mi sto curando con la vigilattesa quindi non c'è problema comunque ironie amari a parte il motivo per cui insomma presto la mia poca voce questo evento è perché non potevo permettermi di deludere insomma tutte le persone che mi hanno aiutato in questo progetto quindi dietro il mio nome ci sono un sacco di un sacco di persone a cominciare appunto comincio dalla cover insomma dal dall'artista nonché maestro Gianluca Capaldo che ha illustrato il mio libro quindi poi avremo modo di entrare nei dettagli dell'immagine. Stella Piccarò che appunto ha curato la redazione insomma e mi è stata prestata dal buon Gianluca Lamberti e insomma tutto lo staff di facciamo finta che a cominciare appunto da Gianluca Mesbet che ha suggerito anche alcune alcune idee alcune modalità insomma più un sacco di supporto e sostegno morale un po' da tutta Italia ecco questo mi ha sorpreso sono stato contattato da diverse persone e ho scambiato diciamo le mie idee con quelle degli altri insomma ne è venuto fuori un progetto editoriale che trascende la mia individualità e che vuole essere il lo spartiacco insomma per magari tanti altri progetti che verranno ovviamente sotto la bandiera di facciamo finta che quindi proprio la dimostrazione che è un lavoro di collettivo quindi questo libro è stato pubblicato su una piattaforma che diciamo su cui io stesso ho delle perplessità nel senso che chiaramente io preferisco comprare i libri dal dal libraio qui vicino ma date diciamo alcune criticità che ho avuto con altre pubblicazioni mettiamola così era forse l'unico modo per arrivare a più persone possibili il titolo quindi entro già nel dettaglio super l la vera storia di superman ecco non parleremo di fumetti per paradosso anche se chiaramente superman ci darà il pretesto per entrare in un altro mondo anzi per meglio per creare un ponte tra quel mondo cosiddetto immaginifico e quello insomma e quello insomma in cui noi siamo proiettati quindi superman è in realtà il pretesto per fare della storia della filosofia religione e insomma tutto insieme ecco quindi questo è il fine ecco di questa di questa serata ovviamente non vi posso raccontare tutto se no poi non comprate il libro e no scherzo ovviamente il fine veramente far circolare certe certi tipi di idee poi dopo sta a voi completarlo ecco no noi vediamo qualche qualche piccolo pezzo del puzzle vedremo come da superman addirittura arriveremo a determinati paradossi chiamiamolo così almeno per chi non conosce la storia io compreso no è difficile padroneggiare tutte le dinamiche tutti gli intrecci della storia insomma arriveremo addirittura anche agli eventi di oggi che gli eventi tristi di oggi che riguardano proprio l'Ucraina e la Russia comunque ci arriveremo gradualmente ecco e partendo appunto dal brand il brand di facciamo finta che edizioni appunto vuole essere un esperimento in base poi al successo che avrà questa questa idea di cui io oggi sono portavoce ma chiaramente non voglio essere l'unico quindi spero che alla mia voce tra l'altro debole no però sostenuto dalla volontà forte ne seguono poi dopo altre e quindi spendo due parole visto che appunto questo 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 disegno vuole omaggiare quella quella realtà che ha costruito comunque Gianluca io ero uno spettatore infatti questo libro nasce proprio dalle dalle pause pranzo passate a guardare facciamo finta che e tutti gli incredibili relatori che ha avuto e quindi insomma facciamo finta che è nasce insomma l'imotiv di Mauro Bilino del celebre biblista e linguista Mauro Bilino e che è diventato insomma il metodo il metodo per eccellenza no e quindi è un atto di immaginazione e immaginare vuol dire creare quindi da qui appunto la creazione che potete assistere nel disegno e ecco oggi penso che sia una delle puntate più emblematiche proprio su nel senso che si costruiscono intorno proprio al fare finta che perché questa sera noi faremo finta che superman in superman ci sia scritta una storia vera e quindi andiamo a vedere se è così veramente e soprattutto almeno al principio io farò finta di essere Mauro Bilino nel senso che adotterò o adottato in tutto e per tutto il suo metodo che è quello della dal partire dalle parole dalla scomposizione delle parole no che poi è il metodo socratico la definizione la definizione delle parole di termini quindi come il principio di un metodo di indagine e ovviamente insomma spero di non sfigurare perché chiaramente non non sono io un linguista però diciamo che alcuni passaggi li possiamo e li faremo tutti quanti insieme entro entro quindi nel dettaglio abbiamo parlato appunto di di nomi beh innanzitutto superman ne ha diversi il primo quello insomma il nome di battesimo se mi si consente è calel che vuol dire el rapido e leggero figlio di giorel ossia el di luce o luce di el allora già per chi ha sentito insomma per chi segue le ricerche di vari autori che vanno da da mauro biglino a cinzia mele a erico baccarini e alessandro de montis insomma e tanti altri che hanno proseguito il cammino di zaccaria sitcini el non è una parola nuova in quanto fa riferimento a quella a quel termine a quel sostantivo abbastanza ambiguo elohim in quanto viene utilizzato al singolare anche se in realtà come mauro biglino ci insegna è un plurale ecco in superman che è stato creato negli anni 30 per la precisione nel 1934 da due autori jerry sigle e joe schuster due immigrati ebraici figli di immigrati ebraici tra l'altro provenienti dall'est nella fattispecie kiev quindi ucraina per quel che riguarda jerry sigel che era figlio di un olandese di una e ma e di mamma a ucraina quindi kiev e invece schuster joe schuster che invece veniva dalla lituania è nati nel 1914 ecco noi abbiamo questo innanzitutto questo primo graffio se vogliamo al al dogma monoteista in quanto la religione ebraica ammette un solo dio e anche nell'eventualità in cui si riconosca l'esistenza di altri sono considerati dei meri idoli quindi insomma già questa già questa cosa qui se non si fosse se non si trattasse di un fumetto sarebbe abbastanza scandaloso specie se consideriamo tutte le critiche le polemiche in cui si è imbattuto mauro biglino semplicemente per aver detto che per aver sostenuto che appunto elohim molto difficilmente poteva essere un plurale maiestatis no quindi nella bibbia si parla di diversi elohim di cui java è solo uno dei tanti quindi che piaccia non piaccia è così ecco questo invece nel 1934 è praticamente già assodato perché di el ne abbiamo tanti no di elohim ne abbiamo diversi certo poi dovremmo andare a vedere di che tipo di elohim stiamo di che tipo di elohim stiamo parlando e forse non di yahweh ecco quindi addirittura noi abbiamo una rappresentazione di uno di questi elohim quindi anche ammettendo che ve ne esista soltanto uno abbiamo una rappresentazione estetica indicati un altro un altro divieto no quindi del proprio della 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 religione ebraica e insomma nel momento in cui c'è già solo partendo dai nomi si rischia di far arrabbiare un sacco di persone ma non ma questo è soltanto nulla perché gli autori sembra che abbiano insomma che la sapessero lunga perché se noi andiamo a definire ad analizzare altri sostantivi beh diciamo che i guai aumentano perché il nome di battesimo che ha meglio il nome che il da terrestre che viene conferito a superman quindi a kalel e clark kent gli autori ci hanno venduto che clark fosse mutuato da un attore hollywoodiano clark kable mentre invece kent fosse stato mutuato da kent taylor da un altro attore ma diciamo che la cura invece con cui sono stati sono stati scelti e selezionati di abbiamo visto no già kalel e giorel diciamo determinati nomi diciamo che ci fa dubitare che il nome clark kent sia diciamo stato condizionato dal dal diciamo da un motivo così mondano come quello di associare questi nomi nome cognome a due attori e infatti il nome clark in realtà è una derivazione di clericos che è greco vuol dire chierico quindi uomo insomma sacerdote uomo di chiesa no ma chierico nel senso di addetto alle funzioni sacerdotali e religiose di mediazione tra l'uomo e dio premessa in superman il linguaggio l'idioma di riferimento è la coine giudaica quindi un greco condizionato dalle influenze giudaiche quindi il greco lo ritroveremo spesso kripton il nome del pianeta di superman è chiaramente greco quindi in questo caso anche clark sembra essere una derivazione del greco clericos e appunto tant'è vero che clark in inglese da cui deriva clark in inglese che vuol dire impiegato addetto insomma a diversi significati in base al contesto in cui viene applicato ma magari è una coincidenza andiamo a kent kent sembra essere un chiaro riferimento alla contea di kent laddove c'è la chiesa di canterbury che è praticamente il nucleo della religione quale l'anglicanismo infatti superman è praticamente il volto il profeta di un nuovo culto un culto che si colloca a metà tra l'ebraismo e il protestantesimo perché parlo di protestantesimo perché opposto a clark kent troviamo l'ex luto l'utore ha un duplice riferimento già nel nome il primo è hitler ha le stesse identiche consonanti e noi sappiamo benissimo che in ebraico le vocali non vengono conteggiate htlr e l'altro è luter martin lutero ossia colui che praticamente negò il rapporto la mediazione tra l'uomo e dio quindi da una parte noi abbiamo il clericos e dall'altra abbiamo l'anti clericos da una parte noi abbiamo il figlio di dio da un'altra parte noi abbiamo il il figlio di del novecento no del il del nichilismo di nice no di quelle di quell'ideologia che uccide dio infatti superman superman era certamente un ebreo era un uber jude e che si opponeva al vero uber mensch che era appunto adolf hitler il superman della della germania era adolf hitler quindi mentre dall'altra parte dell'oceano troviamo appunto superman il campione l'eroe dei dei ritti dall'altra invece abbiamo l'ascesa triste e oscura di adolf hitler anche lui è il supereroe anche lui ha un simbolo anche lui ha un una bandiera anche lui ha dei poteri speciali garantiti appunto dalla wehrmacht nella potenza della wehrmacht e quindi le parole che ho detto io sono di joseph gebers che appunto chiaramente non vedeva di buon occhio l'ascesa di questo di questo profeta quale era superman no quindi già abbiamo una figura che poi entrerà nell'immaginario collettivo del mondo e insomma quindi vediamo una dialettica storica vediamo una dialettica ideale che contrappone da una parte quindi il figlio di dio e cosiddetto figlio di dio e che nella veste umana rappresenta proprio il il sacerdote no quindi il ponte tra dio e l'uomo e dall'altra invece il l'ex lutor colui che invece vuole uccidere dio no colui che nega la mediazione quindi già già insomma le diciamo che gli autori abbiano voluto sembra quasi che abbiano voluto già giocare con le parole ma magari sono delle nostre suggestioni magari mi sono fatto prendere la mano no col far finta che andiamo allora a vedere altri personaggi l'amata di clark kent è lois lane anche lois è un nome greco lois che deriva da loion che vuol dire la migliore la preferibile lane lane è inglese che è la via e per chi conosce un po della cultura giudaica la via è la la via è la legge mosaica quindi da una parte abbiamo la legge mosaica alla k e che è preferibile lois lane e dall'altra abbiamo l'ex luto la legge di lutero magari è un'altra suggestione c'è un'altra donna che superman ha amato ed era lana lang per una quindi ancora una volta viene ribadito la parola lana lana lane no quindi a giustificare il fatto che forse potrebbe non essere una coincidenza lang lunga in tedesco quindi insomma gli autori sembra che ci siano per dire che la legge mosaica è la preferibile è lunga perché è stato il suo primo amore quindi viene prima lana lang e poi l'ais lane ma preferibile e si contrapone alla legge di luther non a caso l'ex luther in realtà il nome è alexander luther ma viene sempre pronunciato nella forma contratta l'ex quindi insomma diciamo che questo qua superman ha diversi livelli tanti tanti insomma e questo qua noi abbiamo appena cominciato a grattare appena cominciato a grattare la superficie e anche perché se andiamo a vedere i genitori beh chiaramente cominciamo ad addentrarci in un terreno che trascende sembra trascendere insomma quello della cornice di un fumetto la madre di superman al principio la madre terrestre di superman al principio viene chiamata mary maria successivamente viene ribattezzata sara quindi nel primo caso come la mamma di gesù nel secondo come la moglie di abramo e il padre terrestre invece quello che viene conosciuto come jonathan kent beh jonathan vuol dire deriva da jonathan ossia jave ha donato e quindi chiaramente il riferimento al dono di dio no perché comunque superman a terra sul pianeta terra e viene trovato appunto da da questa coppia terrestre no insomma è esplicito chiaramente già il ritrovo di superman che viene trovato in una in una nave in un'arca è diciamo la versione post moderna di mosè e di tante altre figure ebraiche di cui superman rappresenterà il sincretismo diciamo moderno quindi dentro superman si incarnerà il retaggio tutto il retaggio ebraico e forse anche di più molto di più il già perché il fatto il fatto che superman richiami il retaggio ebraico non è certamente scandaloso è chiaro esplicito e il fatto che invece gli autori di superman abbiano celato delle conoscenze che addirittura sembrano violare diciamo l'ortodossia ebraica beh quello quello insomma quello è un altro discorso ed è il discorso in cui noi ci vogliamo addentrare ovviamente con tutte le cautelie del caso ma quindi per quello che dico oggi noi dovremmo sbarazzarci di parecchi idola mentis e tribù nel senso che dovremmo veramente sparecchiare la mente da tanti pregiudizi e da tanti preconcetti di cui io stesso tra l'altro prima di prima di ascoltare le lezioni mauro brino ero farcito anche in parte forviato magari da dalla dalla filmografia e anche perché come appunto detto mauro e la bibbia è il libro più venduto al mondo ma è anche quello meno letto e quindi quando mauro questo libro nasce come come a dire il vero una un tentativo perché l'accostamento a super di superman a un elohim lo fece proprio mauro brino e io vogli insomma fu un un sasso lanciato in uno stagno dal peso granitico e che diciamo persino a me che insomma cerco essere cerco di essere sempre abbastanza aperto insomma mi sembrò una sparata no e allora andai a verificare se veramente era così quello che è venuto fuori beh è innegabile ma comunque quello lascio lascio poi dopo a voi le conclusioni perché nel momento in cui noi andiamo a a definire a quale a quale elohim appartenesse gli cominciano un sacco di problemi perché innanzitutto i autori ce l'hanno messo sotto il naso se gialluca puoi chiamare la l'immagine di disegnata il dipinto di gialluca capaldo sarà più eloquente delle mie parole che tra l'altro è la e l'appunto la cover del la cover del libro ecco beh il il soggetto come possiamo vedere è un un genio alato un dio babilonese infatti i corrispettivi degli elohim biblici per la narrativa insomma per l'epica sumero babilonese erano gli annunachi se andiamo noi a vedere sul petto di questo di questo soggetto troviamo una s ma se la guardate bene quella s è un serpente e ora noi sappiamo che jorel il padre di superman era uno scienziato che faceva parte era uno dei membri più autorevoli del consiglio dei criptoniani e per intenderci per chi magari non conosce il fumetto ma ha visto il film di richard donner era interpretato dal grande marlon brando insomma quindi abbiamo uno scienziato quindi il padre di superman era uno scienziato che fa fuggire il figlio su un'arca dov'è che nella nella bibbia noi abbiamo sentito parlare di un'arca beh nel capitolo del dubbio universale nella genesi cosa c'entra con superman beh superman quando arriva sulla terra non era in una non era in una cesta era in un'arca che conteneva l'essenza di tutte le specie del pianeta proveni di cui era da cui era da cui proveniva e a terra nella o meglio costruisce quando diventa grande costruisce sente l'esigenza di costruire la sua fortezza della solitudine che tra l'altro ha un'architettura molto simile a quella proprio dell'esagile sia il i zigurat che sono celebri insomma proprio per la della civiltà sumera e babilonese e nell'artico anche qua sul perché sul perché superman voglia costruire la la propria dimora eh nell'artico eh il il motivo apparentemente ignoto o meglio per capirlo forse dovremmo leggere i libri di felice vinci su meno nel baltico o di cinza mele mauro bighino idee del baltico e la bibbia regno del nord perché infatti sulla base delle loro ricerche sembra proprio che il principio fosse collocato nel nord eh e solo successivamente nel medio oriente quindi ehm il il fatto poi che in questa nella dimora di superman la fortezza della solitudine ci fossero tutte le specie venissero custodite tutte le specie ehm vegetali animali del pianeta da cui provenisse beh insomma sembra un un dettaglio abbastanza eh stonato nella cornice di un fumetto insomma io li ho letti praticamente tutti e non ricordo ehm sinceramente insomma di un eroe che gioca a fare il Darwin e l'inneo francamente no è un elemento che sembra proprio ehm trascendere i i i i canoni di un di un fumetto classico tra l'altro specie se consideriamo che superman è stato uno dei primi quindi non era neanche una trasgressione una un'evoluzione propria della modernità no quindi superman anzi è stato poi dopo l'archetipo di riferimento di eh di tantissimi autori ehm quindi eh diciamo che è una cosa che destra particolare ehm solleva insomma molti molte molte curiosità ecco mettiamola così eh altro Davide puoi ripetere perché ho letto diverse domande eh uguali come nasce questa illustrazione eh sì e quali linee ha seguito perché l'hai fatta fare tu certo certo allora il per il questa illustrazione nasce da un'equazione ossia se superman come dice il suo nome stesso no Kalel è un Elohim e noi sappiamo perché ormai certe cose dobbiamo darle anche per assodate no che gli Elohim sono gli equivalenti degli Annunaki ossia che a loro volta sono gli equivalenti dei Teoi greci che a loro volta sono gli equivalenti dei Neteru egizi o dei Deva del della civiltà dell'Indo beh allora eh doveva avere una doveva avere queste sembianze no ma poi eh questo il questo verrà capito nel momento in cui noi andremo a identificare quale degli Elohim è superman perché noi adesso abbiamo un particolare non da poco noi sappiamo che eh superman è il figlio di uno scienziato se noi andiamo a vedere e che ha il simbolo di una S una S che in realtà però è un serpente dopotutto noi pensiamo che la S che lui ha sul petto sia in realtà le iniziali di superman ma se noi andiamo a considerare il fatto che lui quella S quella cosiddetta S la prende dal padre il padre non era chiaramente non fruiva dell'epiteto superman no quindi vuol dire che quello era il logo di famiglia quindi la S di superman non è una S è un serpente stilizzato se voi lo andate a vedere bene l'evoluzione del simbolo chiaramente voi adesso vedrete un serpente perché ve l'ho messo nell'orecchio no ma noi sappiamo che eh in ebraico nakash vuol dire sia serpente che sapiente quindi diciamo è un è un sottile gioco di parole e e noi sappiamo che c'è un dio per la eh cosmogonia insomma per la perlipica ehm babilonese che praticamente ehm ha fatto salvare quello che probabilmente era il figlio di usudra l'equivalente di noi in un'arca e quello era Enchi Enchi che era lo scienziato colui che avrebbe creato l'uomo ehm l'Adam e che ehm insomma sembra essere ehm il serpente il cosiddetto serpente biblico perché che il serpente di cui si parla nella Genesi non 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 sia un serpente lo deduciamo dal fatto che quello parlava tranquillamente e che aveva un un certo credito eh il problema è che poi eh gli Elohim sono stati poi dopo ehm accorpati in un'unica figura che è quella di Yahweh per per capire invece bene eh la diciamo alcuni alcuni parte alcuni tratti della Bibbia come sarà ripeto parlo a un pubblico di cui diciamo do quasi per assodato che le ricerche di 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 Mauro Biglino, Cinzia Mele e Baccarini siano eh eh diciamo state assimilate ecco però comunque una 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 ripassa non fa male e quindi insomma nel momento in cui noi sappiamo da che parte sta sappiamo anche trarne poi un sacco di conseguenze perché perché opposto a Superman quindi il grande nemico eh opposto alla casata degli El quindi quella di Jorel troviamo un'altra figura che è quella di Zod Dru Zod era il nome originale anche qui abbiamo una un nome che deriva dal greco Dru che deriva da Andros che vuol dire uomo virile uomo forte e Zod che invece prende le mosse da un termine ebraico che è Zain che vuol dire arma armi e che corrisponde alla Zed greca che si legge però senza vocali quindi insomma in pratica Dru Zod vuol dire l'uomo delle armi il soldato il generale Zod infatti era il generale nonché responsabile del centro spaziale di Krypton premessa ehm proprio perché Superman è un soggetto su cui hanno messo mani parecchie persone nel libro si è cercato di fare non una chimera ma una distinzione tra gli autori e il loro contributo tanto è vero che si è provveduto a dividere esattamente come avviene poi nella storia diciamo mitologica no eh l'era dell'oro l'era dell'argento l'era del bronzo insomma così anche nei comics abbiamo la Golden Age che va dagli anni 30 fino agli anni 50 diciamo la Silver Age e le altre ecco a noi di quelle che vengono dopo la cosiddetta Golden Age non interessa perché già ci hanno messo un sacco le mani un sacco di altre persone a noi ci interessa il nucleo originale perché così come per la mitologia greca c'è una una precisa linea di demarcazione tra l'Iliade e l'Eneide e scusate l'Odissea di Omero il quale sembra configurarsi più come un un testimone degli eventi di cui narra c'è eh quindi una linea di demarcazione tra Omero e tutti gli altri no eh così noi abbiamo una eh una una differenza sostanziale tra il nucleo elaborato il il corpus insomma creato da questi due autori Jerry Siegel e Joe Shuster e quelli che verranno successivamente diciamo che nella Golden Age noi troviamo quindi Jerry Siegel Joe Shuster e questo Bernstein un altro ebreo eh premetto tutti i supereroi della Detective Comics della Marvel sono stati tutti al 99.9 per cento creati da autori ebrei lasciamola lì per adesso questa questa cosa quindi nel contesto di eh di Zod Zod è stato creato da questo Bernstein un altro ebreo quindi come Jerry Siegel e Joe Shuster e eh tra l'altro Davide ti posso poi perché ho fatto la ricerca quando tu parlavi di Zod o di Zed mi viene anche in mente il bastone egizio che eh anche quello si pronuncia Zed e magari ve lo faccio anche vedere perché poi lo ritroveremo anche in tante altri posti e anche qui a proposito di tecnologia secondo me verrà fuori parecchio eh quindi sì poi cioè allora io oggi devo fare molta attenzione sia per la voce sia perché devo dire e non dire però per ora mettiamolo lì per ora mettiamolo lì e il eh comunque insomma noi abbiamo questo Zod che è insomma non è soltanto un cattivo è proprio l'antitesi dello scienziato un soldato che ha un particolare odio per la razza umana perché ne vuole eh diciamo eh non so come dire in un modo elegante no visto che la parola che mi viene è holocausto diciamo che vuole programmare le nascite diciamo che ha una visione fatta di caste diciamo che è per l'eugenetica insomma eh non per il libero arbitrio non per l'autodeterminazione eh ecco questa dialettica noi la ritroviamo bella bella nella 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 nell'epica mesopotamica tra Ellil ed Enchi che sono gli equivalenti greci di Zeus Ellil e appunto Poseidone Enchi eh quindi il il fatto però clamoroso se noi facciamo finta che eh cioè o meglio se noi consideriamo che gli autori che scrivono Superman che creano Superman sono ebrei eh la cosa clamorosa è che quindi il Superman è il figlio del serpente dello scienziato del Nakash quello che nella Bibbia è il male quindi Nagadeva e quindi insomma eh diciamo che il gli autori quindi sono 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 oltre l'eresia se consideriamo quindi che hanno già sdoganato con decenni quindi prima di anticipo rispetto a Mauro Pivino no la pluralità degli El degli Elohim una rappresentazione fisica ecco com'è Superman e la immagine e somiglianza di noi uomini quindi come a dire che questi Elohim siano fisicamente non dissimili e soprattutto scusami quando poi in realtà incontra i suoi simili ha eh delle peculiarità dei superpoteri rispetto a noi ma nei suoi simili è la normalità è la normalità esattamente poi entreremo nel merito della biologia ecco eh anzi eh ci entriamo adesso eh questa nella la biologia di Superman è molto particolare perché noi sappiamo eh che eh beh era dotato di una forza incredibile eh come vedremo però questa forza non ha nulla di Erculeo nel senso che non è forza muscolare se dobbiamo fare un paragone è a dire il vero una forza simile a quella di un altro personaggio biblico un giudice e che era appunto Samson il cui nome era Simpson che vuol dire piccolo sole ecco noi sappiamo che Superman la sua forza la traeva proprio dal sole ebbene eh eh non ve lo dico perché sennò poi dopo ripeto non voglio svelarvi tutti gli arcani no del libro no però diciamo che per che se avrete modo di leggerlo eh scoprirete insomma che non non parliamo appunto di forza di forza fisica no ma o meglio eh non di forza fisica nel senso di forza muscolare comunque un'altra delle caratteristiche degli attributi divini perché Superman ha dei poteri divini a tutti gli effetti divini è il fatto che invecchiava più lentamente eh quindi insomma questo è un altro dato che noi sappiamo essere un attributo degli dei degli Annunaki e o anche degli stessi Elohim dove si diceva appunto nella Bibbia che eh quindi vive molto 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 più alto di noi ma è mortale ma assolutamente è mortale anzi eh ha un punto debole mica da ridere c'è una pietra verde che può ucciderlo e questa pietra emette delle radiazioni ora eh parlare oggi di eh di radiazioni beh alla luce poi del del conflitto attuale no è è un passo facile ormai anche i bambini sanno eh sanno delle armi nucleari no ma farlo negli anni trenta quindi prima della eh sì infatti adesso arrivo a questo era una cosa abbastanza diciamo inverosimile che creò dei problemi agli stessi autori già perché da piccoli o comunque insomma chiunque si sia fatto una domanda anche se mi rendo conto che negli ultimi due anni siano andate poco di moda le domande non si vede per quale diavolo di motivo Superman dovesse essere allergico diciamo così a una pietra del suo pianeta no cioè come se noi fossimo allergici eh stessimo male eh con un pezzo di terra no ma già dal 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 fatto che questa pietra venisse le radiazioni di questa pietra venissero schermate dal piombo noi sappiamo che questa questa criptonite era qualcosa di simile al all'uranio la pietra che voi vedete adesso infatti non è tratta da un film ma è la torbenite che è praticamente un fosfato idrato di rame e uranio e quindi questa criptonite non sembra essere sostanza dell'immaginazione e soprattutto non era velenosa per Superman era velenosa anche per gli uomini ma Superman avendo un metabolismo più veloce più chiaramente ne eh ne veniva danneggiato maggiormente insomma quindi qua gli autori ci stanno dicendo che persino Superman che era praticamente un dio era vulnerabile alle radiazioni quindi ne aveva addirittura un terrore matto quindi dio un elohim usiamo il termine giusto poteva morire ed era molto molto vulnerabile alle radiazioni ora ehm questo è un altro dato che diciamo lo 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 mettiamo lì perché se noi andiamo a seguirci la le le epifanie di Yahweh così come quelle di altri dei diciamo sembrano particolarmente ehm come possiamo dire nascoste nel nel eh velate dall'ombra abbiamo Yahweh che passava insomma le sue le sue giornate nelle tende no quasi come se si avesse paura nella nella esporsi alla luce e e divinità quali ad esempio non so eh i eh i annunaki che molte divinità annunaki ripeto io do dopo è scontata la la l'analogia che a meno l'analogia diciamo tra gli eluim e gli annunaki poi ne teru e teoi eh in caverne in eh in zone insomma eh eh ombrose oppure insomma come se veramente eh loro fossero particolarmente eh vulnerabili quindi magari di un fenotipo albino dopo tutto potrebbe essere il motivo per cui loro all'inizio si stanziarono nel nord no? E quindi eh quando parliamo di tecnologie anche la rappresentazione che eh che hai dato che eh condivido perché è stupenda vediamo se riesco anche a farvela poi vedere in realtà ricorda proprio questi bassorilievi eh sumeri e soprattutto queste tecnologie di cui tanto si parlava ehm per esempio riguardo i i cherubini che in realtà erano dei dei mezzi di locomozione queste ali no questi bassorilievi sumeri in cui c'erano queste alette da cui poi tu hai ripreso anche la rappresentazione potevano essere una tecnologia una sorta di tuta alare una sorta di mezzo che gli permetteva di volare ci sono anche degli esperimenti in cui fanno vedere delle persone che per esempio con dei con dei mezzi ha eh non so come una forza potentissima verso il basso li li tiene sospesi ha un nome adesso un overcraft forse si chiama non mi ricordo eh ce lo diranno in chat comunque il fatto che ehm eh se se ricordate quindi la la cover del libro eh disegnata da Gianluca Capaldo noi abbiamo un genio alato no? Quindi a ehm veicolare il fatto che potessero volare no? Dopotutto noi sappiamo che Kal-El voleva dire appunto è il rapido e leggero e che è praticamente lo più o meno insomma converge verso il significato di quello che sembra essere Teoi no? Cioè delle delle figure che erano molto veloci rapide perché probabilmente erano avevano eh avevano dei mezzi che gli permettevano di volare noi pensiamo ai sandali alati utilizzati da Hermes che poi utilizzati anche da altre divinità o per insomma per chi ha seguito poi dopo e ha letto i libri di 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 Mauro e degli altri autori eh non lo so troviamo il i cherubini di 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 Yahweh eh piuttosto che i Vimana dei Deva quindi insomma loro sapevano volare potevano volare e quindi anche Superman vola quindi non è dissimile non è dissimile da loro ehm il fatto che lui poi eh avesse una forza comunque superiore al normale è imputabile al fatto che sul suo pianeta diciamo che c'era una gravità eh superiore a quella terrestre e quindi in 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 sul pianeta terra chiaramente la sua forza e in parte e in parte era agevolata dal fatto che il suo metabolismo era programma era stato programmato per un altro ecosistema per un altro habitat no però poi la la forza che sviluppa Superman è tale da andare oltre le capacità muscolari no in quanto fa proprio dei movimenti praticamente ehm fisicamente impossibili no ecco comunque sia tornando al al contesto nel nucleare ci interessa perché perché appunto era un tema era un tema abbastanza insolito per quell'epoca poco comunque che venisse padroneggiata insomma da quelli che erano due autori no dico scappati di casa nel senso in modo non non offensivo ma che non erano chiaramente due scienziati il tutto viene venduto come della fantascienza ma nel 1944 ehm un fumetto di Superman viene sospeso dal Dipartimento della Sicurezza Americana perché si faceva riferimento all'uso di una bomba atomica quindi ben più un anno prima dell'uso delle delle due atomiche delle due atomiche dai pacifici americani a Hiroshima e Nagasaki e quindi addirittura diventa un problema di sicurezza nazionale insomma eh diciamo che sono particolarmente ispirati ecco diciamo che sono particolarmente ispirati così ispirati da addirittura creare un problema di sicurezza nazionale perché quel numero viene sospeso questa cosa succederà ancora nel 1946 in cui viene pubblicato un altro fumetto di Superman in cui c'è Clark Kent che da giornalista va a filmare degli esperimenti nucleari su delle isole tropicali anche quel fumetto gli viene sospeso ecco in Superman troviamo delle conoscenze quindi che alludono alla fisica nucleare ovviamente adesso io non potrò parlarne nel dettaglio quindi cercherò di parlare per aree semantiche no eh quindi poi lascio al lettore approfondire tutti i dettagli di diciamo di queste delle idee che vado tracciando ora nel lettere eh troviamo delle informazioni di astronomia molto precise che non sembrano buttate lì per caso per chi infatti ha letto il libro la caduta degli dei eh scritta appunto da da Mauro Brino e Enrico Beccari Baccarini beh noi abbiamo un riferimento a una gigante rossa Betelgeuse che eh è un nome arabo ma che nel contempo eh ma che eh un significato arabo che in realtà è preceduto da un un altro chiarissimo significato che è Betel quindi casa di El e il il sole quindi di Superman anche quello una gigante rossa chiamato Rao richiamo a Ra il dio sole il sole quindi insomma facciamo se facciamo finta che sia vero mi stanno dicendo che praticamente i Elohim vengono da un altro sistema solare che ruota intorno a eh o che comunque è prossimo adesso non lo sappiamo insomma diciamo che è prossimo a una gigante rossa una gigante rossa che quindi in quanto tale quindi non una stella giovane come la nostra ma che è molto più grande ma che nel contempo è anche più fredda motivo per cui Superman eh quindi con una biologia eh diciamo eh complementare a quella di una stella fredda diciamo fredda come quella di una gigante rossa in un contesto come quello del nostro sistema solare sulla Terra avrebbe un surplus di energie che farebbe una sostanziale differenza quindi se noi ipotizziamo perché anche se non siamo professionisti dell'informazione anche se non siamo biologi non siamo dottori ma facciamo finta di essere dei filosofi no a messo che siamo mestiere se noi immaginiamo una forma di vita eh diciamo che si deve relazionare con un con un sole più freddo dobbiamo presumere quindi che loro fossero più vulnerabili alla luce solare di un sole quale il nostro quindi che dal punto di vista tecnologico avessero un surplus energetico che potesse alimentare la loro tecnologia maggiormente ma che dal punto di vista biologico li esponeva molto di più rispetto a noi alle radiazioni anche perché radiazioni vuol dire degenerazione del dna vuol dire radicali liberi vuol dire morte quindi ma a venire in soccorso la loro biologia c'era la loro tecnologia che è un tutt'uno con la loro biologia no forse erano già transumani quindi perché appunto c'era una commistione tra 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 i tra i due ambiti perché infatti per i criptoniani i criptoniani raccontano gli autori avevano dei vestiti molto particolari simili a quelli indossati da marlon brando in superman cioè luminosi e che preservavano la loro biologia quindi insomma i vestiti parlando come come mangiamo i vestiti dei criptoniani erano alimentati da energia solare ecco se Gianluca tu puoi mandare ok allora fermati pure qui anzi no su questo ci torniamo dopo questo è le fod poi dopo vedremo perché che cos'è se vai a quello del diciamo esatto ora nell'immagine noi troviamo il dio amon ra il dio sole se vedete alla pelle blu e un blu che non è a caso è il cosiddetto blu egizio considerate che quel blu è un è il primo pigmento sintetico conosciuto della storia che è ottenuto con diversi minerali di cui alcuni derivati dal silicio più il calcio e la malachite e tanti altri tuttora noi non sappiamo come ne avessero realizzati e che insomma avevano una particolare questo questo pigmento questo pigmento blu quindi che non è pennarello ha una capacità molto particolare cioè che se colpita da delle da delle dalla luce solare emette raggi infrarossi ora hanno scoperto recentemente che praticamente questo pigmento sintetico ha un'incredibile applicazione nel campo del fotovoltaico se guardate in testa il dio amon ra capite che quel cappello quella tiara che sembra una tiara è abbastanza diciamo che è abbastanza inusuale no immaginate a camminare con quel con quel copricapo a immaginate a camminare con quel copricapo ecco guardate bene i colori che sono il verde il blu il rosso che sono praticamente i colori dello spettro solare e guardate poi da quel cappello che c'è un quello che è un tubo dorato che si convoglia su quello che è un cubo diciamo in cui è seduto il buon dio amon ra ecco a me fa pensare a un pannello fotovoltaico dove c'è un cavo che è collegato per una batteria questo lo rilancio per il dottor massimo barbetta di cui sono un grande stimatore ho letto tutti i suoi libri ho visto le sue puntate su facciamo finta che ho sentito di recente magari poi organizzeremo qualcosa assieme quindi perché sarebbe interessante avere la sua opinione al riguardo visto che lui ha dimostrato di essere molto più diciamo preparato insomma di tanti altri accademici insomma guardiamo com'è il un pannello fotovoltaico vero se si riesce a caricare l'altra immagine che che ti ho inviato e perché vedremo che praticamente ecco abbiamo la stessa griglia fatta da diverse lamine e noi da quel passaggio di prima sappiamo che praticamente abbiamo tutta la banda della luce quindi vuol dire che loro probabilmente riuscivano ad assorbire tutta la radiazione luminosa oggi i grandi limiti del fotovoltaico sono che noi praticamente ci perdiamo buona parte dello spettro solare una parte della radiazione noi riusciamo a ad assorbirla noi quindi il fotovoltaico non è ancora molto efficiente no quindi ma in prospettiva capite che è una è sicuramente insomma un target a cui noi possiamo certamente centrare ecco no ecco quindi noi abbiamo che guarda caso la tuta di superman è dello stesso colore blu blu egizio e soprattutto noi sappiamo che superman assorbe l'energia dal sole lì la chiave del suo potere ma noi sappiamo anche che i vestiti dei criptoniani sono profondamente sono alimentati sono addirittura luminosi no se voi pensate anche proprio nel film Marlon Brando è stato ha delle vesti che sembrano quelle di una medusa ecco no sono sono brillanti no questo ci fa pensare appunto ai ai deva il cui significato sembra essere proprio quello no quello di essere luminoso brillante esseri di luce infatti io ho abbozzato una quella che è un'ipotesi quindi io perché non è un accertamento una certezza se noi consideriamo che gli Elohim in Eteru chiamateli come volete fossero degli Albini e quindi fossero più chiaramente più vulnerabili alla le radiazioni solare beh dovevano mettersi delle creme allora considerate che gli egizi e i sumeri sono quelli che hanno inventato la cosmetica e che praticamente alcuni prodotti erano a base di oli di natron quindi una commissione tra oli mirra natron e insomma perché no questo pigmento sintetico no che probabilmente insieme a loro aveva un ruolo molto particolare che ripeto questa è la mia è la mia è la mia è la mia ipotesi che però è è basata su degli studi di gli studi di medicina avviati proprio qui in italia non ovviamente dai pagliacci che ci sono in televisione perché sono negli studi televisivi ma da dei professori seri quindi chi vorrà approfondirli mi invito veramente a prendere a leggere il libro perché secondo me sarà è già insomma non è neanche il futuro della biologia ma è già un presente no che viene ma tanto sai abbiamo una tachipirina che ci protegge quindi insomma il gli autori sembrano sapere parecchie cose di astronomia di fotovoltaico e di fisica addirittura le loro conoscenze andranno a inerire anche la clonazione insomma il sospetto il forte sospetto è che praticamente questi autori avessero attinto ad un corpus ad un nucleo di conoscenze che venivano tramandate da un'elite che è diciamo grossomodo quella rabbinica no anche perché oltre alla alla torà noi abbiamo il talmud infatti io entrerò quando parlerò del quando dell'accostamento insomma tra tra superman tra la forza di superman e quella di sansone farò dei chiari riferimenti al talmud alcuni passaggi che sono che meglio chiariscono e contestualizzano alcuni passaggi della bibbia e che in questo modo sembrano veramente sono così eloquenti che non forse non bisogna nemmeno far finta bisogna semplicemente leggere quindi è veramente capisco quando mauro lino dice a volte mi sembra di fare il mestiere più stupido del mondo basta leggere in certi casi no e niente insomma il discorso di superman va a smuovere parecchi ambiti che e parecchie conoscenze perché il discorso è che le conoscenze non si improvvisano se noi pensiamo anche al modo in cui superman è arrivato poi parlerò brevemente dell'Effod perché mi piace anche come immagine se pensiamo anche al modo in cui è arrivato superman lui non è arrivato con un'astronave da Krypton sulla terra no lui ha attraversato un portale tant'è vero che quando lui è sulla terra e legge il messaggio del padre Jor-El sono già passati migliaia di anni per capire questo leggetevi le porte degli Elohim scritto sempre da Mauro Vino con se non erro proprio il professor Barbetta o Stargate il cielo degli egizi non vorrei dire male in cui si parla proprio di queste porte di questi cunicoli spaziotemporali che chiaramente non per me non sono dei oggi in fisica sono conosciuti come Wormall ecco quello è il termine no ponti di Einstein Rose se non erro se è il termine giusto che non sono soltanto degli squarci nello spazio ma anche nel tempo e quindi per le persone che fanno il viaggio abbiamo una linea temporale no ma dall'altra parte magari sono passati migliaia di anni questo l'ha spiegato benissimo Enrico Baccarini citando appunto un passo molto importante dove c'è quest'uomo che va da Brama per cercare una moglie un marito alla figlia Brama Loca al centro della galassia ne parlerò presto vi svelo uscirà una puntata con Giuliana Conforto in cui anche lei parlerà di alcuni cambiamenti al centro della galassia esattamente nel fatto che la persona quando ritorna poi sulla terra sono già passate migliaia di anni no quindi Brama si mette a ridere perché ha detto i tuoi spasimanti sono tutti morti ecco ma ritorniamo al per chi ha seguito Zekaria Sitchin e i suoi studi che sono stati proseguiti da Alessandro De Montis in primis o stesso in ultimo ho letto La regalità degli dei con Victor Victor Nunzi insomma il mistero di Nibiro di questo pianeta degli dei pianeta degli dei libro scritto da Zekaria Sitchin nel 1976 insomma che non diciamo che è uno scenario contemplabile però diciamo che presenta delle ombre cioè il fatto che possa esistere un altro pianeta nel nostro sistema solare che ha un'orbita ellittica molto ellittica e che impiega e che impieghi 3600 anni per fare un giro intorno al sole ora io non sono uno scienziato però immaginare una forma di vita simile alla nostra su un pianeta così lontano secondo me per forme di vita fondate sul carbonio è impossibile se noi pensiamo che Plutone già su Plutone che il pianeta diciamo oggi più estremo insomma ai margini del sistema solare non arriva fondamentalmente alla luce del sole e allora noi proviamo a fare un gioco di fantasia e a integrare con Superman con le cronache di Superman e se questo pianeta questo Nibiru che vuol dire luogo dell'attraversamento o meglio e se Nibiru che vuol dire luogo dell'attraversamento non fosse un pianeta ma un portale un wormhole da cui vengono gli dèi quindi Nibiru non sarebbe il pianeta degli dèi ma il luogo dell'attraversamento no? da cui vengono gli dèi i quali vengono da sempre in un contesto di ipotesi no? da un altro sistema solare con una gigante rossa beh noi sappiamo che Krypton è esploso e quindi verosimilmente noi che cosa faremmo se il pianeta Terra esplodesse? beh probabilmente Soros e altri festeggerebbero perché sembra che appunto sia quello il loro obiettivo no? ma insomma ne andremo a cercare un altro ed è esattamente quello che ci dicono le cronache di Krypton ossia che praticamente cercano di terraformare altri pianeti sulla base della e quindi e qua cito invece un rabbino che cita a sua volta Mauro Brighino che esportando la loro biologia come fosse una confettura questo lo dico lo dice un rabbino ok è anche abbastanza famoso no? quindi insomma Mauro Brighino ne parla abbastanza spesso di questo mi è rimasto impresso infatti furono proprio quelle citazioni che mi spinsero ad approfondire determinati argomenti quindi diciamo che ci può stare no? quindi come ipotesi la mettiamo là a proposito appunto di conoscenze che non si improvvisano molti magari avranno visto Interstellar di Christopher Nolan ebbene Christopher Nolan che sia un genio almeno questa è l'opinione mia personale no? però comunque si è affidato ad un ad un consulente molto particolare un Nobel per la fisica ecco noi abbiamo queste stesse idee qui questi stessi concetti di spazio e di tempo che sono tutt'altro che scontati forse magari possono esserlo oggi ok? ma non agli inizi del novecento erano concetti perfettamente assimilabili perfettamente concepibili scusate da degli autori che certamente non hanno avuto una formazione da fisico no? e tant'è vero che infatti appunto ci dicono che Superman viene sulla Terra attraverso un portale quindi addirittura eh contemplano l'idea di un'altra dimensione la dimensione X quella che oggi è conosciuta come quinta dimensione cioè una dimensione che trascende lo spazio e il tempo oggi tra l'altro sempre due fisici ripeto poi nel libro troverete un sacco di riferimenti molto ben precisi pensano che le orbite di Urano e Nettuno la cui perturbazione la cui diciamo sono perturbate non da un altro corpo celeste ma da un buco nero quindi posto oltre il sistema solare che spiegherebbe quindi il perché queste orbite risultano essere perturbate cosa che ha andotto a pensare ci fosse un altro pianeta e che non risulta visibile in quanto apparterebbe alla materia oscura quindi ossia la materia oscura che costituisce l'88% di tutta la materia dell'universo e che in quanto tale non è visibile e insomma io direi che di 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 bombe ne ho messe ritornando appunto al costume ritornando al costume diciamo di Superman che quindi richiama sembra richiamare già nella tinta e nelle capacità cioè quelle di assimilare l'energia solare e di convoiare e trasformare in energia cinetica no abbiamo diciamo un altro collegamento con un abito molto particolare che indossavano i leviti e diciamo i sacerdoti che si interfacciavano con Yahweh e che è appunto l'Ephod se riesce a ripescare quell'immagine Gianluca noi vediamo che già le tinte sono praticamente quelle di Superman il colore blu porpora e il lino che è isolante buttiamocela così ma soprattutto dalla descrizione c'è un un manto di per esempio Re Davide aveva anche un manto di bisso scarlatto nirosso oltre alle Fod con il quale contattava Yahweh nel tempio di Gerusalemme e questo abito era molto particolare perché era in tessuto e ricamato con dei circuiti d'oro e soprattutto aveva un pettorale fatto con diversi cristalli diciamo costellato da diversi cristalli ora come ha spiegato Mauro Berlino questo era analizzando proprio il termine che definisce proprio le Fod era un era un abito disegnato da un pensante oggi lo chiameremmo ingegnere quindi come se quelli là fossero diciamo dei circuiti dei circuiti proprio non dei 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 motivi ornamentali anche perché poi dobbiamo pensare a una cosa se pensiamo anche al alla tiara che abbiamo visto prima noi non dobbiamo dimenticare che all'epoca non c'erano stilisti non c'erano cioè ogni cosa aveva una funzione ben precisa un ingegnere non pensa alla forma un un ingegnere diverso da un architetto per esempio che darà più valore alla componente estetica no l'ingegnere è pragmatico quindi non fa come dire non ha criteri estetici o comunque passano in secondo piano hanno una funzione ben specifica quindi se anche noi vediamo per esempio quel copricapo che ha una forma particolare non oggi il cappella tiara del papa potrà essere simbolica no che a sua volta è una derivazione di una di una cultura precedente forse perduta o certamente non nota a noi ma all'inizio aveva un principio aveva scusate al principio aveva aveva una funzione doveva avere una funzione ben precisa o comunque è licito supporre è licito aspettarsi che avesse una funzione pragmatic ecco quindi consideriamo che questo abito serviva al sacerdote per interfacciarsi con Yahweh ma interfacciarsi letteralmente così come io mi interfaccio con quelle persone che ancora vogliono parlare col sottoscritto col telefono no e come con dei cristalli bene la tecnologia kriptoniana è praticamente fondata su dei cristalli oggi tutti i nostri microprocessori orologi cellulari eccetera sono fondati su dei cristalli addirittura abbiamo adesso già sviluppato dei sistemi di memoria che sostituiranno i i dvd e insomma i nostri attuali device per immagazzinare per immagazzinare in centinaia centinaia di terabyte i dati della nostra cultura sempre se sempre se sopravviverà insomma al decadentismo insomma di oggi in dei cristalli in dei minerali insomma diciamo che Jerry Siegel e Joe Suster furono diciamo molto lungimiranti sul nel parlare insomma di cristalli di queste capacità particolari quasi magiche che facevano di questi dei veri e propri maghi per non parlare poi dopo della criptonite e dei parallelismi corporali e infatti lo stesso Kal-El quindi Superman per contattare il padre ormai morto comunque quindi per diciamo evocarlo ma il termine evocarlo forse è quello più corretto usa un cristallo quindi diciamo che da solo è una coincidenza ma un miliardo di coincidenze e vabbè magari qualcuno insomma restano un miliardo di coincidenze ma insomma sembra diciamo che sembra sembra che veramente questi autori abbiano sotterrato e neanche tanto bene no il dentro Superman un sacco di conoscenze e che vi assicuro se avrete se ci investirete della vostra fiducia anche perché se ci investirete della vostra fiducia difficilmente potrete dire insomma che sono delle casualità e se sono delle casualità me lo dovete scrivere io sono libero scrivetemi per me è una casualità quindi dovete metterci la faccia e dire che è una casualità scherzo però direi di di toccare forse l'ultimo diciamo argomento perché poi la mia voce sta cominciando anche se hai retto molto bene perché hai visto come un'ora e venti in realtà dopo che si è scaldata casualmente ma al caso non esiste ti ha fatto raccontare tutta la storia benissimo sto soffrendo ma diciamo che ne vale la pena perché non è retorica se dico che benché sia molto solitario diciamo che non mi sono trovato da solo e insomma sono stato sostenuto da diverse persone e e tu certamente sei una di queste e quindi diciamo non mi sarebbe dispiaciuto non non poter esserci e e niente insomma per entrare per entrare insomma in quello che forse è l'argomento più delicato ecco è il trarre lì implicazioni dallo schieramento di Super Bowl e questo diciamo abbastanza sconvolgente gioca molto di sponda qui esatto diciamo che il l'autore che ha inventato Zod Bernstein gli ha dato una un'estetica molto particolare quella del male per eccellenza una divisa nazista e quindi esatto esattamente ora il il fatto che Zod possa essere accostato a un nazista se noi andiamo a far finta che Zod quindi si richiami a Ellil ossia Zeus il tonante beh diciamo che comincia ad avere delle implicazioni nel momento in cui noi andiamo a fare un altro salto un altro parallelismo ossia se noi andiamo a fare un parallelismo con le divinità nordiche gli Aisir o quelli che venivano chiamati gli Ari gli Ariani che appunto avevano il fenotipo albino alti biondi e ebbene perché perché tra gli Aisir il leader degli Aisir tralasciando Dino che era certamente la figura morale era l'autorità diciamo diciamo che era un po' l'equivalente forse ma non voglio fare questa difficoltà diciamo che il vero Dio che aveva diciamo il potere militare tra tutti insomma era Thor il tonante Dio del Tuono ecco era lui il leader degli Aisir ebbene il il buon Thor che aveva Mjolnir quindi il martello quindi come Zeus aveva il fulmine la la fulgore così Thor appunto aveva un'arma che era assai simile all'arma che aveva Indra appunto no il il Dio del Tuono e della della città dell'Indo ecco e Thor aveva un figlio a cui darà poi Mjolnir che era Magni bene noi sappiamo che per le persone che almeno hanno seguito diciamo le lezioni di Mauro Bellino diciamo che dalle descrizioni dei parallelismi tra la civiltà mesopotamica tra la religione scusate la religione sumera babilonese e quella ebraica Yahweh sembra essere assai simile a Ishkur al Dio sumero Ishkur ossia adad il tonante ebbene il noi sappiamo che praticamente la svastica richiamava proprio Mjolnir tant'è vero che questo quadro che è del 1876 o non vorrei dire un'eresia comunque del 1870 intorno al 1870 sul cinturone di Thor troviamo una svastica quindi a riprova del fatto che sulla interpretazione della svastica ci hanno raccontato un sacco di fregnace no? la svastica aveva un significato ben preciso non era richiamava tanto il sole quanto appunto la la fugore di Thor quanto il martello di Thor quindi insomma se noi facciamo finta che sia vero tutto quello che ci è stato detto noi abbiamo un incredibile paradossale parallelismo proprio tra Zod quindi che sarebbe l'icovalente di Elil e quindi che sarebbe il padre di Ishkur che corrisponderebbe a Yahweh quindi in Superman tutto il contrario di tutto l'Ubermensch non è Superman è l'ex Luthor quindi è lui che esprime la volontà di potenza il serpente ossia il male a meno per gli ebrei e i cristiani invece in Superman è Jorrell è il buono che manda il figlio per diciamo dargli un ruolo sul mondo nel mondo un ruolo da messie un ruolo da salvatore un ruolo da leader e quindi in Superman il buono e il cattivo e il cattivo e il buono ma non un buono qualunque e non il cattivo qualunque ma il male per assoluto e se noi andiamo a vedere infatti la la Bibbia beh Yahweh ha un epiteto molto particolare che non si presta a diverse interpretazioni il signore degli eserciti è un genocidio dopo l'altro anche degli ebrei stessi Mosè fa uccidere migliaia di persone gioca un po' di più di sponda esatto quindi insomma diciamo che non vogliamo trarre delle conclusioni ma le lasciamo trarre a voi perché le lasciamo trarre a voi perché diciamo attualmente se per chi ha letto qualche non ho l'ambizione che qualcuno abbia letto i miei libri ma per chi quantomeno abbia studiato la storia al liceo quando insomma esistevano ancora le scuole con tutti i loro limiti ma insomma non ero almeno delle carceri diciamo che la storia tende a ripetersi e quindi quello che noi vediamo con Superman è il convogliare nella sua figura di tante figure importantissime tanto per la religione ebraica quanto per quella per quella cristiana anzi a dire il vero Superman a un certo punto si fa Cristo trascende quindi la sua figura addirittura arriva fino all'ultimo a Gesù fino a lui perché appunto nel 1992 Superman muore e poi risorge e diciamo sconvolge il mondo quindi quello che doveva essere un idolo un'icona del mondo della fantascienza dell'immaginazione entra concretamente nella realtà storica addirittura il suo verbo si fa carne il suo archetipo si fa sostanza storica quando noi vediamo Christopher Reeve poco dopo un anno e mezzo dopo la morte di Superman nel fumetto che viene annunciato attraverso quattro testate diverse quattro vangeli diversi cade da cavallo e comincia il suo calvario ecco per chi questo mi dà l'occasione per parlare brevemente degli archetipi già nel nome Christopher Reeve noi vediamo la parabola del Cristo e la storia di Superman perché nel cognome Reeves sembra alludere a George Reeve il primo attore che fece Superman e che non a caso prima interpretò un ruolo nel film Sansone e D'Alila e nel nome Christopher che vuol dire portatore di Cristo quindi ancora una volta noi vediamo il Messia Superman diciamo deludere le attese giudaiche così come fece il Cristo che non venne riconosciuto come tale per diventare non un leader militare ma come un uomo che porta la croce e quindi noi vediamo l'uomo più potente del mondo l'uomo d'acciaio che in realtà si rivela veramente d'acciaio come Christopher Reeve non per i colpi che riesce a dare ma per i colpi che subisce perché cadendo da cavallo diventa tetraplegico ma dimostra una volontà d'acciaio inossidabile risollevandosi su e addirittura recitando insomma veramente dimostrò di essere Superman in tutti i sensi quindi abbiamo è come se Christopher Reeve fosse diventato fosse avesse attivato diciamo l'archetipo proprio cristico ecco e lo vediamo anche proprio nella sua parabola nella parabola della sua vita quindi se mi consentite questo volo diciamo questa licenza poetica non pretendo che sia vero magari una lettura mia sembra proprio che Superman sia una storia che è stata spacciata per mito e a un certo punto è diventato un mito moderno quanto meno che è diventato storia e perché poi vedremo che nei fumetti la morte e la risurrezione insomma di Superman anche se in realtà non fu vera morte porterà aprirà le porte a degli anti a degli anticristo a degli antimessia qualcuno che si spaccerà per lui e che porterà ad uno locasto nucleare appunto e insomma questa è una storia abbastanza familiare perché diciamo per chi leggerà il libro ci rivedrà molti parallelismi con quello che è narrato dalla Bibbia insomma io diciamo che non è bene forse fermarsi qui e non andare non andare a toccare altri argomenti perché sennò sì non non voglio e anche poi giusto soprattutto per essere coerenti alla anche alla nostra impostazione filosofica nel senso di porre delle domande di non dare tutte le risposte anche perché magari possono essere delle forzature io Karl Popper diceva che la scienza deve essere falsificabile quindi la scienza è narrativa innanzitutto falsificabile quindi cioè che può essere smentita domani non è no poi vabbè insomma i rappresentanti della scienza non hanno aspettato proprio neanche forse il domani ma proprio il giorno stesso però insomma diciamo che sta a voi adesso raccogliere tutti i dubbi che abbiamo che vi abbiamo scagliato addosso questa sera penso che la tua voce fosse tarata per un'ora e trenta che scagliano in questo momento quindi mi sta dicendo che mi devo fermare mi stanno tagliando l'audio va bene così quindi c'è il link in descrizione è disponibile su Amazon per ora è un primo passo al di là delle ideologie era comunque quello più immediato senza crowdfunding senza poter in qualche modo investire più di tanto e quindi è il link disponibile in descrizione di questo video pubblicato da oggi parte questa ufficialmente l'uscita di Super L Davide Ramunno con la prefazione mia quindi che è un po' un primo passo per chi in qualche modo vuole anche sostenere il progetto diciamo che ci saranno magari altre puntate che faremo dedicate all'argomento ci saranno anche degli approfondimenti ci saranno magari degli incontri dal vivo in cui lo presenteremo e quindi poi fra l'altro vi invito poi a contattarmi a mano a mano anche sui mini social quindi fatemi un pochettino sapere come la pensate eccetera eccetera grazie anche a di cuore a chi potrà in qualche modo supportare il progetto forse anche con un like una condivisione un passaparola un commento quindi grazie Davide per questa puntata insieme e chiudiamo proprio lasciando come immagine grande questo tuo libro augurandoti un grande in bocca al lupo con tutta la fortuna che merita il tuo impegno la tua dedizione la tua passione che traspare anche nel fatto che pur senza voce un'ora e trenta l'abbiamo fatta in diretta insieme a voi per chi ci segue in diretta il 18 maggio è un messaggio che arriva anche ai posti perché poi continuerete a trovare il link sia in descrizione e lo trovate anche cercandolo per nome su Amazon va bene quindi Davide la conclusione a te niente vi ringrazio insomma per l'attenzione spero che appunto possiate diciamo accogliere positivamente questa iniziativa che ripeto non vuole essere solo un qualcosa di singolo spero infatti che diciamo un po' noi abbiamo già in canna altri contenuti perché poi è giusto anche proporre qualcosa di nuovo però sulla base di diciamo sulle spalle del lavoro di altri giganti no perché questo che siamo a meno io mi ripeto un anno sulle spalle di giganti di cui Mauro Bino certamente uno di questi Cinzia Melle Enrico Baccarini insomma sono persone che hanno avuto il coraggio di rompere l'ortodossia accademica e quindi sono sono veramente contento anzi che attraverso facciamo finta che ho potuto conoscere persone molto speciali persone anche sul campo come gli amici dell'arco di Diana e su questo anzi vi daremo delle novità e insomma veniteci incontro noi verremo certamente incontro a voi a Torino adesso appunto fra qualche giorno e ci vedremo fisicamente quindi non vedo l'ora e niente tra l'altro voglio rinnovare anche il ringraziamento per tutti coloro che in tempi rapidissimi in poche ore sono riusciti a prenotare l'evento è andato oltre le nostre più rose aspettative quindi chiedo scusa se in questi giorni sono stato anche poco presente voi magari mandatemi anche solo un messaggio sui social a chi è riuscito a prenotare ci sarà l'evento quindi il 21 a Torino è solo un inizio l'abbiamo voluto contenere con le persone proprio per non fare il passo più lungo della gamba spero capiranno tutti coloro che non sono riusciti a farlo ma spero ci saranno anche tante occasioni e la presentazione di questo libro insieme a Davide in presenza sarà proprio una di queste che organizzeremo quanto prima grazie a tutti quanti per essere stati insieme a noi anche quest'oggi un abbraccio anche ai nuovi arrivati nuovi abbonati i veterani i fedelissimi della prima ora a chi è creduto in questo progetto da sempre quindi un abbraccio a chiunque abbia in qualche modo collaborato o collaborerà a questo progetto io vi rimando fra l'altro alla puntata del venerdì sera quindi mi raccomando ricordate tutte le uscite lunedì mercoledì venerdì e l'edizione speciale della domenica per chi me lo dovesse chiedere anche se il sabato siamo con Nicola la domenica uscirà comunque una puntata che non sarà la serata del sabato quindi sarà un contenuto inedito un abbraccio a tutti quanti grazie per essere stati insieme a noi grazie Davide quindi mi raccomando mi preservo preservo la voce quindi a ricrisla buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti